Marito e moglie stanno in macchina e stanno andando a un funerale a un certo punto, bloccati in mezzo al traffico la moglie si gira e si diceva se mi facevi guida a me, da ora che eravamo arrivati al funerale e il marito, si ma il funerale poi era il nostro